Presidente Nanni Beccardi Falco, il libro si conclude con un paragrafo sulla fabbrica di idee contro la crisi. Quali sono queste idee? Certamente, perché un libro che parla del riscatto deve passare dall'analisi delle ragioni per cui l'Italia si ritrova in queste condizioni a fare un certo numero di proposte, perché se non ci sono proposte è inutile scrivere il libro. E le proposte sono quelle di capitalizzare sul valore degli italiani, sulla capacità degli italiani, sul talento degli italiani e sulle tecnologie che gli italiani sono stati sempre in grado di introdurre. Nel libro noi parliamo di un esempio che conosco molto bene perché è stata l'acquisizione del nuovo Pignone da parte di Agenda Electric, una società che quando noi l'abbiamo acquisita vendeva un miliardo nel 97, quando l'abbiamo acquisita vendeva un miliardo di dollari, oggi ne vende 17 miliardi. Quando l'abbiamo acquisita aveva 5 mila dipendenti, oggi ne abbiamo 33 mila, quando l'abbiamo acquisita aveva praticamente un grosso cliente insieme a Gazprom, oggi la Gazprom è uno dei tanti clienti che ci sono. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo semplicemente preso una società italiana, dell'agente italiana, la tecnologia italiana e gli abbiamo offerto la piattaforma del mondo per operare. Quindi ciò dimostra che le capacità italiane ci sono e come.